Una media di due morti al mese in Umbria, dove torna lo spettro della maglia nera per i decessi sul lavoro. Il fenomeno sta assumendo già da ora i contorni di un 2023 orribile per la sicurezza. Dieci vittime in appena cinque mesi. Nello stesso arco di tempo del 2022 le vittime erano state tre. L'ultimo decesso sul lavoro in ordine di tempo è quello del 31 maggio a Montefalco, dove un operaio edile è precipitato da un'impalcatura. La procura di Spoleto ha aperto un fascicolo. Si tratta del terzo incidente per caduta dall'alto in appena due settimane. Di statistica spaventosa e intollerabile parlano i sindacati di CGL Cisle Will, che chiedono di riprendere immediatamente il percorso avviato dopo la tragedia di Gubbio di due anni fa, l'esplosione alla Green Genetics, con la Prefettura di Perugia, la Regione, l'Inail, le Camere di Commercio, le associazioni datoriali e l'Anci regionale per definire un piano strutturato che abbia diversi obiettivi, tra cui anche un piano straordinario di formazione dedicata sia ai lavoratori che alle imprese e il potenziamento degli organici dei servizi di vigilanza e ancora un programma di qualificazione delle imprese con l'introduzione della patente a punti e incentivi per chi si impegna a migliorare i sistemi di sicurezza.